Allora, siamo al canto ventesimo del secondo libro dell'Innamoramento di Orlando, all'ottava prima. Di lui lasciai sì come Norandino lo prese per compagno al torniamento, ben vi andò volentieri il paladino, che di passare aveva molto talento. Ora s'acconciò il tempo all'orcamino, intralevante greco, ottimo vento, qualvia gli portò in Cipri alla spiegata, ove gran gente in prima era assembrata. Però i greci, insieme ai compagani, alla gran festa si erano adunati, e degli circostanti e dei lontani baroni e cavalieri erano armati, ma pur fra tutti quanti e più soprani e de maggiore stima e più onorati, erano Basaldo e Costanza e Morbeco, li duo forturchi e quel di mezzo greco. Costanzo fu figlio di Vatarone, che all'orde greci lo impero tenia, e quei due turchi avevano due regioni di che erano ammiragli, in Natolia. Ora Costanzo aveva seco Grifone ed Aquilante, pien di vigoria. Naturalmente Grifone ed Aquilante li avevano trovati nel libro secondo, al canto dodicesimo, quando furono liberati dalla prigionia del re Manodante, e si erano andati insieme a Origille. Ben mi stimo io che abbiati già sentito come Aquilante fu seco nutrito, quando la fata nera il damigello mandò primeramente in quella corte, poi che levò di branca al fiero uccello che condotto avrebbe in trista sorte. Di questa cosa più non vi favello, che so che avete queste storie scorte. Grifone in Spagna ed in Grecia Aquilante furono nutriti, e più non dico avante. Se non che, essendo poscia spregionati come io contai dalle isole lontane, ed avendo più giorni camminati per diversi paesi e gente strane, nel porto di Blancherner erano entrati, ove con festa e con carezze umane fu ricevuti dallo imperatore, e da Costanzo è fatto molto onore. E volendo esso andare a quel torniero, ebbe la loro veduta molto grata, conoscendo ciascun buon cavaliero per fargli un grand'onore a quella fiata, avenga che Grifone in gran pensiero perché origilla, sua dama, infirmata, era di febbre tanto acuta e forte che quasi è stata al ponto della morte. Ma pur essendo migliorata alquanto partì da lei, benché gli fosse grave, né se poté spiccar già senza pianto, ed entrò con Costanzo alla sua nave. Indi passarno ove il fiume di Xanto, affoce in mare, e con vento suave gionzero in Cipri, come io vi ho contato, ciascuno bene ad estriero e bene armato. Molti altri ancora che io non vi racconto, baroni e cavalieri d'amigiella, erano venuti, e tutti bene in ponto, de' armi ad estriere, de' robe novelle, quando fu norandino in Cipro gionto, le cose de' ciascun parvo men belle, perché è sì ben guarnito e adorno tanto che sopra gli altri ognom gli dava vanto. Nel porto a Famagosta pose scale, e viene andar di lungo a Nicosia, quale è fra terra la città reale, e Tibiano il seggio vi tenia, qui vi confeste e pompa trionfale, con duce e conti e molta baronia, entrò il re di Damasco, tutto armato, con trombe avanti e bene accompagnato. Un monte acceso portava nel scuto e similmente nel cimera in testa, e ciascun che coesso era venuto avea pur tale insegne e sopravvesta. Così fu degnamente ricevuto, con molto onor da tutti e con gran festa, ma sopra gli altri l'onorò Lucina, che più che se lo amava la tapina. E già, passando il tempo e gionto il giorno che il torniero doveva farsi in sulla nona, ed ogni cavaliere andava intorno facendo mostra della sua persona l'un più che l'altro a meraviglia d'orno. Dei trombe, dei tamburi, il ciel risona, per ben vedere avanti ogni om si caccia, preso e ogni loco intorno della piaccia, ma dall'un capo l'un alto tribunale per le dame e regine era ordinato a Lucina, in abito reale l'altre vi sedevano da ciascun lato. Mostrava un poco il viso naturale, le più, l'avevano depinto e colorato. Turpin, il dice, io non so per espresso, benché siano molte che ciò fanno adesso. E qui Boiardo richiama la letteraria autorità di Turpino, dice, io non lo so, però Turpino me lo dice, quindi Turpino naturalmente è un manoscritto. Angelica là sopra era tra loro, qual se mostrava un sole in fra le stelle, con una vesta bianca adorna d'oro, senza alcun dubbio è il fior dell'altre belle. Re Tibiano, il suo gran concistoro, dall'altro lato incontra le donzelle se stava al tribunal, che era adornato di sette drappi d'oro in ogni lato. Or cominciano ad entrare cavalieri. Ben vi so dire che ciascuno è forbito con ricche sopravveste e concimieri, ogni om se mostra nel sembiante ardito di qua de là spronando i grandestieri, perché il torniero in due schiere è partito, Costanzo di una parte capitano, dell'altra Norandine il soleano. È naturalmente da tenere di conto il fatto che l'uditorio di Boiardo raccontante, cantante, avesse piacere ad ascoltare queste grandissime parate di paladini e palafrenie. E quindi, ricorderemo appunto così, si concluderà addirittura l'Orlando Furioso con una grande parata di tutti i personaggi che ci sono stati e con la lotta terribile fra il saracino e il nuovo cristiano. Gnacare, nacchere e corni, gnacare e corni e tamburini e trombe suonorono un tratto intorno alla viaccia. Trema la terra e parca il cerro in bombe che lo abisso e il mondo si disfaccia. Tutte le dame, a guisa dei colombe, per l'alto crido si smarirno in faccia, ma i cavalieri con furia e con tempesta tutta briglia, ortar testa per testa. Ne si vedean null'altro i campioni, benché ciascuno avesse all'urto accolto, ma il fremir delle nare, dei ronzoni, delle narici, dei cavalli che sbuffavano, aveva sì grande il fumo all'aria in volto e sì la polve alciata in quei sabbioni che aveva il veder a tutti avanti tolto, né se guardava l'ordino la schiera ciascun menando a chi più presso li era. Ma poiché il fatto fu aturato, qui Foffaro suggerisce attutato, cioè attutitosi, Panizzi invece ricorda che alcune edizioni hanno otturato, turarsi il naso, e una, un'edizione del 1538, addirittura durato. Ma poiché il fatto fu aturato un poco e cominciò l'un l'altro a discernire, apparve in quella piazza il crudo gioca, colpi dispietati, il gran ferire. Avanti, a mezzo, a dietro, in ogni loco si vedevano gente degli arcioni uscire per tutte gran travaglia e grande affanno, ma chi è di sotto è quel che porta il danno. Orlando per vedere il fatto aperto, non volse nella folta troppo entrare, ma quel morbeco turco, che era esperto in tal mestiero e ben lo sapea fare, se trasse avanti in suo destiero coperto e sopra gli altri si faceva mirare qualunque gionce da urto e de spada, sempre mestier che al tutto a terra vada. E già da sei dei quei di Norandino avea posti i roversi in sul sabbione, ne ancor s'arresta, ma per quel confino più furia mena e più destruzione onde turbato, quel re saracino, a tutta briglia sprone il ronzone e sopra di morbecco andarsi l'asse di quello urto a terra lo fracassa. Da poi basaldo, che più presso gli era percossa d'ambe mano in sulla testa, ne lo difese piastra nella miera che a terra lo mandò con gran tempesta. Tutta roina pone nella schiera a lui davanti alcun più non s'arresta o quanto è lieta, lucina la dama vedendo farsi bene a chi tanto ama. Costanzo il greco, che vede a sua gente si malcondutta da quel soriano, turbato fuori di modo nella mente, gli sprona addosso con la spada in mano, l'un l'altro di loro era valente, onde alcun tratto non andava in vano, al fin meno Costanzo un colpo fiero menò Costanzo un colpo fiero e ruppe il monte e il fuoco del cimiero. Sina la croppa lo fece piegare. Al colpo smisurato che io vi conto ni stette già per questa indugiare, ma meno l'altro il fronte l'ebbe gionto e terra no randini per trabuccare se non che orlando. Allor se mosse apponto e tanto fece che il trasse d'impaccio sin che rivenne e lo sostenne in braccio. Unde Costanzo per questa tirata addosso al conte gran colpi menava, ma lui, come in arcion fosse murato, di cotal cosa poco si curava, ma sendo un randino in sé tornato che a sostenirlo più non lo impacciava, verso Costanzo si rivolse il conte e lui percosse in mezzo della fronte. Comunque a un cotal colpo non vuol più, cioè chi ha ricevuto un tal colpo non ama riceverne altro, che bene e paccio che il secondo aspetta. Ora Costanzo al primo andò pur giù, di lui rimase la sua sella netta. Diceva adesso il conte Orvala tu che menavi a ferirmi tanta fretta. quando io stavo occupato ad altra posta. Orvieni adesso e con me te accosta. Lui già non si accostò, ma cadde a terra, come io vi dico, col capo davanti, ma il conte adosso a un altro si disserra. si che lo fece al ciel voltare le piante, Grifone in altra parte facea guerra, dall'un dei lati e dall'altro aquilante né se avedean de tal destruzione né de costanzo che ha tratto de arzone. Ma il crido della gente che era intorno voltare fece Grifone in primamente e combattendo là fece ritorno benché sapesse del fatto niente. E quando lui fu gionto ebbe gran scorno poiché abbattuto è il capo di sua gente onde ha dirato il suo dester sperona a Norandina adosso si abbandona. Dall'altra parte ancora giò un sacquilante e quando il suo costanzo vide a terra turbato fieramente nel sembiante con ambi sproni il suo dastriero afferra e riscontrosse col conte d'Anglante e qui se cominciò l'orrenda guerra benché lui non conosce il paladino perché la insegna avea di Norandino. Né lui fu conosciuto anche da Orlando che di costanzo la insegna portava ora signori a voi non ve domando se ciascun d'essi ben si adoperava o tal ruina e tal colpi menando che l'aria perde intorno si bilava come la cosa andasse a tutto il traggio né se vi scorge ponto di vantaggio cioè sul serio con armi serie detta la francese arm outrance armi a oltranza vero vero è perché aquilante era turbato mostrò maggior prodezza all'affrontare ma poiché l'uno e l'altro riscaldato ben vi so dire che assai vi fu che fare di qua di là menando ad ogni lato che par che il mondo debba ruinare con dritti e corroversi aspri e rovesti eppur gli ultimi colpi al fin fur questi john se aquilante orlando nella fronte sopra la croppa lo mandò roverso ma ben rispose a quella posta il conte lui ferì d'è un colpo si diverso che sua valdanza e quelle forze pronte e l'animo e l'ardir tutto ebbe perso di qua di là piegando ad ogni mano le gambe aperse per cadde al piano e certamente ben seria caduto che più non se regia che un fanciullino se non che grifon john se dargli aiuti il quale aveva lasciato norandino lasciato l'avea quasi per perduto che ormai non potea più quel saracino ma per donare aiuto al suo germano lasciò grifone andar quel soriano e dei giongero al conte se procura spronando a tutta briglia il suo ronzone or qui si fece la battaglia dura più caltra mai di orlando e di grifone qual durò sempre in sino a notte oscura né se potea partire la questione sin che gli araldi con trombe d'intorno bandirono il campo in sino all'altro giorno ciascun tornò la sera a suo masone ed i fatti del giorno si favella ora costanzo parlava grifone dicendo io so contarti una novella che lassù tra le dame a quel verone a quel balcone verona vedermi parve angelica la bella e se ella è quella io te dico di certo che orlando è quel che quasi te ha deserto ed anche io l'ho compresa quel ferire che cresce nella fine a maggior Lena e però ti consiglia di partire prima che ne abbi più tormento e pena omo non è che possa sostenere alla battaglia i colpi che lui mena onde lasciare la impresa c'è bisogna non ne volendo il danno e la vergogna diceva lui costanzo or datti il core se io faccio che colui ne vada via poi di acquistare a nostra parte onore e in campo mantenirli in segna griffon rispose a lui che per suo amore quel che potesse far tutto faria e che egli avea fermamente ardire contro ad ogni campo il campo mantenire il greco che era di malizia pieno costanzo come sono tutti de arte di natura tutti figli d'ulisse quando la luce al giorno venne meno uscì de casa per la notte scura e via soletto sopra un palafreno ovvero orlando di trovare procura e trovato che l'ebbe queto queto lo trasse in parte e a lui parlò segreto e dimostrò gli che il re Tibiano secretamente faceva gente armare perché era giunto un messaggio di Gano il quale cercava orlando far pigliare però se egli era adesso a mano a mano vedesse quel paese di scombrare e perciò ritrovarlo era venuto per palesarli questo e dargli aiuto e che gli aveva una sua fusta armata la fusta è una specie di naviglio dal remo basso per corseggiare nascosta ad una spiaggia indivicina qual via lo porterebbe alla spiegata in Franza a qualche terra di marina fu questa cosa si ben colorata dal greco che sapea con tal dottrina che il conto appunto ogni cosa li crede ringraziandolo assai con pura fede e fatta presto Angelica svegliare con essa la marina senegia ove Costanzo il volse accompagnare e là il condusse ove la fusta via alla navetta al navicello facendosi il parone a dimandare il comandante della nave gli impose che il baron portasse via ove più gli piacesse al suo talento e lor ne andarno avendo in poppa il vento quel che si fosse poi di Norandino né di Costanzo non saprebbe io dire perché di lor non parla più Turpino ma ben del conte vi saprò seguire il qual sopra la fusta il suo cammino fu per fortuna a risco di morire e stette sette giorni all'aria bruna che mai non vide il sol e me la luna e questo sopportò con pazienza poscia che altra difesa non può fare ma poiché ebbe di terra conoscenza davendo in fastidio tutto il mare posarsi fece al lito de Provenza ascendono scendono in Provenza che di esser fuori mille anni gli pare per trovarsi a Parigi a mano a mano e dar di sua amistate al contegano qui c'è un'ironia del boiardo amicizia un traditore che ben l'avrei trattato vi prometto come dove a trattarlo il can fellone ma non piacque al dimonio maledetto che lo avea tolto in sua protezione al manco male il faceva stare in letto cinque o sei mesi rotto dal bastone ma Lucifer che lo ha preso a guardare al conte orlando dette altro che fare però che cavalcando il paladino come fortuna a sua ventura il mena arrivò un giorno al fonte di Merlino che è posto in mezzo del bosco di Ardena del fonte vi ho già detto il suo destino sicché a ridirlo non torrò appena se non che quel Merlin qual fu l'autore lo fece al tutto per cacciare l'amore essendo gionti qua quella giornata come io vi dico Orlando e la donzella essa che più del conto era affannata smontò il suo palafrino giù della sella e poi bevendo quell'acqua fatata la fonte del disamore sua mente in altra voglia rinovella e dove prima ardea tutta di amore ora Damar non può dricciare il cuore si sono invertiti le parti Rinaldo e Angelica orsamenta l'orgoglio e la durezza qual gli Arranaldo si gran tempo usata negli par tanto più quella bellezza che soprana da lei fu già stimata e dove il suo valore e gentilezza all'odar sua leva essendo innamorata ora al presente il sir de Monte Albano fellone e stima sopra a ogni villano adesso Angelica Angelica Ranaldo non lo può più vedere ma parendo già tempo di partire però che era passata alquanto il caldo volendo a ponto della selva uscire videro un cavaliere ardito e baldo or tutto il fatto me convien dire quel cavaliero armato era Ranaldo qual come io dissi nel canto quindicesimo dietro a Rodamonte era venuto presso a questa fonte ma non vi gionse perché il fiume in piena che raccende lo amore avea trovato ora io non vi saprei contare in rima come se tenne allora avventurato quando vide la dama perché stima siccome egli ama lei d'essere amato visto a per prova e t'inteso per fama ciò che per esso ha già fatto la dama non conosceva il conte che era armato con quella insegna dal monte di foco che si palese non si avria mostrato serbando il suo parlare in altro loco perché essendo ad Angelica costato cortesemente e sorridendo un poco disse madama io non posso soffrire che io non vi parli se io non vo morire a benchio sappia a qual modo è partito mi sia portate con tal villania che io non meriterei di essere udito ma so che seti si benigni e pia che ha benché estremamente ha già fallito perdonarete a quel che per folia contro dell' amor vostro adoperai del che contento non credo essermai or non si può distor quel che è già fatto come sapete dolce anima bella ma pure a voi mi rendo ad ogni patto e ben cognosce l'alma meschinella che io non sarebbi degno in alcun atto di essere amato da cotal donzella ma di essere dal mio lato vostro amante sol vi dimando e più non mancheggio avante orlando stava attento alle parole le quale odì con poca pacienza né più soffrendo disse assai mi dole che a questo modo nella mia presenza abbia mostrato il tuo pensiero si fole che ad altri non avria dato credenza però che volentieri stimar vorria che ciò non fosse vero in fede mia ti ho ascoltato ma non ci voglio credere io vorrei amarti e poterti onorare siccome di ragione ora non posso tu per sturbarmi già passasti il mare e per altra cagione non fusti mosso benché a me zanze volesti mostrare chiacchierone ciarlatano stimandomi in amor semplice e grosso or che animo mi porti io vedo aperto ma saldo il dio che già teco non merto quando Ranaldo vide che costui qualseco ragionava il conte orlando de un ed altri pensier stette intra due o de partirse o de seguir parlando ma pur rispose al fine io mai non fui se non quel che ora sono al tuo comando ne credo di aver te con minor pace se ciò che piace a te non mi dispiace non creder che più vaga agli occhi tuoi paia che agli altri questa bella dama ed estimar nella tua mente puoi che ogni om si come tu de amar la brama quanto sei paccio adunque se tu vuoi aver battaglia con ciascun che l'ama perché con tutto il mondo farai guerra chi non l'amasse ben seria di terra ma se tu mostri che sia tua per carta cioè se mi mostri qualche diritto sancito notarilmente o per ragion che non gli abbia altri affare comandarmi potrai poi che io mi parta e che io non debba seco ragionare ma prima soffrirei di avere sparta l'anima al fuoco e il corpo per il mare che io mi restassi mai di amar costei e se restar volessi io non potrei conte e non è mia così fosse ella come io sono de lei ma non voglia ad amarla il panizzi ci dice che ad amare il verbo amare è verbo italiano quanto amare ma non voglia ad amarla in compagnia e in ciò di sfide il mondo e boni erei stata è la tua ben grande scortesia che avendoti scoperti e pensier mei fidandomi di come parente poi me hai tradito sì villanamente disse renaldo questo è pur assai che sempre voglia altrui villaneggiare da me non fu tradito alcun giamai e ciascun mente che il vuole affirmare io non ti sto tradendo Orlando sì che comincia pur se voglia ne hai e pigliati a quel capo che ti pare se ben se tra baron tenuto il primo più d'un altro uomo non ti temo o stimo Orlando per costume e per natura molte parole non sapeva usare onde turbato nella cera scura trasse la spada senza dimorare e sospirando disse la sciagura pur ci ha saputi in tallò come nare che l'un per man dell'altro sarà morto vedalo il dio e giudichi chi ha il torto come Ranaldo vide il conte Orlando mostrarsi alla battaglia di scoperta poiché aveva tratto Durindana il Brando lui prestamente ancor trasse fu sberta nell'altro canto vi verrò contando questa battaglia orribile diserta ed altre cose degne e belle assai Dio vi conservi in gioia sempre mai scoperta Grazie a tutti.